Il Parco Nazionale dell'Altamurgia ospita dalla 17 al 21 di luglio la commissione dei valutatori UNESCO per la seconda missione di ispezione legata alla candidatura a Geoparco. Dopo una prima fase conoscitiva del patrimonio geologico, naturale e culturale, questa visita si concentra sulla gestione del territorio e lo sviluppo sostenibile. Il presidente Francesco Tarantini ha sottolineato l'importanza di questo riconoscimento che rappresenterebbe il culmine di un percorso iniziato nel 2019. Diventare Geoparco significa entrare in una rete mondiale dei Geoparchi, valorizzare al meglio e raccontare a livello mondiale tutto il patrimonio, non solo geologico ma anche culturale e naturalistico. L'ispezione è iniziata con una cerimonia a Minervino-Murgia alla presenza di sindaci, rappresentanti regionali, partner turistici e associazioni locali. Rappresenterebbe un traguardo importantissimo per l'ambiente e per i territori pugliesi, non solo a livello proprio di sviluppo, di cultura dell'ambiente che andrebbe sempre più a crescere ma sarebbe anche da stimolo per i territori per migliorare le tematiche ambientali. Essere parte dell'UNESCO vuol dire entrare in un brand eccezionale anche per le stesse aziende che sono presenti nel territorio perché andrebbero a dare un marco di eccellenza ai loro prodotti già presenti su tutto il territorio, non solo di Minervino-Murgia ma anche della provincia a livello regionale. La Commissione visiterà geositi come le miniere di Bauxite, Castel del Monte, Cava Pontrelli e il Pulo di Altamura, oltre a cattedrali e musei. Il territorio candidato, noto per la sua geodiversità, fa parte del vecchio continente Adria. L'iter di candidatura ha già portato a nuove infrastrutture, centri di visita, infopoint e attività educative. A settembre ci sarà il Council e si deciderà in base alle relazioni degli ispettori se il Parco Nazionale dell'Altamurgia entrerà nella rete mondiale dei geoparchi e quindi diventerà il dodicesimo geoparco italiano oppure sarà bocciato. Incrociamo le dita e speriamo di entrare perché questa candidatura al geoparco, come ha avuto oggi modo di sottolineare due ispettori in esca, ha innescato, e lo si può vedere oggi, un enorme entusiasmo, un fermento nella comunità che vogliamo che rimanga.